La politica e le elezioni sono spesso rappresentate come un gioco tra squadre colorate, con un pubblico che si schiera con i giocatori più popolari e li premia, attraverso il voto. Questo gioco in realtà è finto. È una rappresentazione televisiva, con attori finanziati dallo stesso soggetto. Un complesso finanziario e industriale, che nell'insieme, chiamiamo lobby. Controllando i partiti, e quindi il governo, le lobby ottengono il loro scopo. Trasferire la maggior quantità possibile di beni finanziari e materiali, dalle tasche dei cittadini a quelle di un ristretto numero di famiglie, in cambio di inquinamento, guerre, e pesanti debiti. In questo scenario, creare nuovi partiti serve a poco. Infatti, grazie alla forza del denaro, le lobby possono promuovere i propri candidati, integrandoli nel loro sistema. I partiti, tuttavia, non hanno l'esclusiva sulla politica. Anche i singoli cittadini possono partecipare in modo attivo. Il singolo elettore, ad esempio, può candidarsi alle elezioni, anche se non fa parte di un partito. Mettendosi in rete, più cittadini possono riunirsi in pubblica assemblee, per creare programmi e liste elettorali, i cui candidati, se eletti, si impegneranno a rispettare democraticamente la volontà delle assemblee. Se i candidati delle liste elettorali non sono scelti per elezione, ma per estrazione casuale, le lobby non hanno alcun potere di ingerenza, o di influenza, nella composizione delle liste. Il denaro, infatti, non ha il potere di corrompere il caso. Le lobby potranno corrompere solo quella quota di cittadini che, una volta eletti, saranno disposti a vendersi. Ma i rappresentanti eletti dovranno rispondere alle assemblee, e i corrotti, non facendolo, saranno automaticamente banditi dalla comunità. Il confronto politico, di conseguenza, sarebbe tra le liste aperte della comunità, e i gruppi bidone, corrotti dalle lobby. Combinando le assemblee sovrane con le liste aperte della comunità, considerato che le seconde rispondono alle prime, pur con le leggi attuali, si ottiene una forma di democrazia diretta. Con l'estrazione a caso dei candidati, invece delle primarie, per la definizione delle liste elettorali, si riduce il potere di influenza delle lobby, perché non possono candidare le loro pedine. Il progetto delle assemblee sovrane prevede la creazione di assemblee locali in tutte le regioni, come nuclei primari di democrazia diretta. Le assemblee potranno creare liste elettorali, proporre leggi, e dare indicazioni di voto ai propri rappresentanti eletti. Alle assemblee potranno partecipare associazioni non governative, purché non abbiano fini di lucro. Movimenti e partiti politici, purché non abbiano già governato. Singoli cittadini indipendenti, anche se non collegati ad alcun movimento politico. Tre i principi fondanti 1. Sovranità monetaria Un popolo sovrano batte moneta, che quindi deve essere pubblica, e non di istituzioni private. 2. Sovranità nazionale La sovranità aspetta il popolo, attraverso i suoi organi costituzionali, e non ad entità non democratiche sovranazionali. 3. Rispetto delle differenze, e della persona in quanto tale, in nome dei principi di uguaglianza sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell'uomo e dalla Costituzione, contraria a ogni discriminazione di razza, sesso, o religione. 4. Inoltre, la partecipazione è vincolata al rispetto di alcune regole democratiche. 5. La democrazia diretta, in primo luogo, e il rispetto dell'autonomia locale delle popolazioni e delle singole assemblee. Ogni assemblea elegge un presidente, con funzione di rappresentanza e coordinamento, e definisce le liste elettorali. In ogni lista elettorale, il 90% dei candidati sarà estratto a caso, tra i membri dell'assemblea. Il 10% sarà eletto, più che altro per ragioni organizzative. Il presidente è capolista. Tutti i candidati si impegneranno formalmente a seguire, se eletti, le indicazioni dell'assemblea, come organo primario di democrazia diretta. I rappresentanti eletti, quindi, diventano un tramite tra l'assemblea sovrana, e il Parlamento. Alle assemblee, inoltre, può essere affiancato un comitato scientifico, un organo di consulenza, formato da persone selezionate per le loro competenze, in vari ambiti della politica, della tecnologia e della scienza. La democrazia non è un gioco a premi tra squadre colorate, sponsorizzate dalle lobby. In gioco ci sono i beni e i valori primari. Da una parte c'è un gruppo ristretto di giocatori avidi, che promuove un consumo insostenibile, il deterioramento del territorio, e delle risorse naturali. Dall'altra la volontà di costruire una democrazia, fondata sui principi originali di sovranità popolare, e sulla tutela dei beni comuni. Grazie. 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 Grazie.